è arrivato Dani con la demo del percorso di oggi vai Dani dici allora noi adesso ci troviamo a Panarea quindi qui andremo a Pollara e poi a Fericudi Pollara e Salina esatto e cosa vediamo a Pollara? vediamo la valle di Pollara che è molto famosa per il film del Pustino ok Mari grazie a Cucinotta che salutiamo ciao Mari comunque sapete una cosa il mondo è un posto bellissimo bellissimo e poi c'è sempre il campione del mondo che viene a ricordarti che è bellissimo a tratti è ora di pranzo amica Fagiana ti stai annoiando io ho pensato a una gara di tuffi per rivitalizzare il tuo pomeriggio ecco voi concorrenti è la paladina dei diritti è nata in Sicilia e porta la Sicilia dentro il cuore è lei Katie Latorre grazie Katie nasce a Forlima rinasce ad amici è artista completo balla canta intrattiene e oggi per noi si tuffa è Paolo Stella ciao Maria chiamami è bello e intelligente si occupa di tutti i miei eventi appassionato di politica è Mauro Orso è un momento di grande tensione Mauro si sta preparando Mauro siamo pronti per te Katie Latorre unica atleta donna ci tiene a dirlo pronta per il tuffo Katie ci siamo Paolo Stella unico atleta Stella di Canino a lotta dirige l'orchestra il maestro Pessicchio canta non amarmi aspetta Grazie a tutti.